Due cantanti molto apprezzate del talent show hanno avuto uno scontro molto forte Ecco di chi si tratta.Amici di Maria De Filippi, Tish contro alcuni concorrenti del talent L'ultima puntata del sabato di Amici ha lasciato degli strascichi nei ragazzi. In sala Relax Tish ha espresso tutto il suo disappunto per il comportamento di alcuni suoi compagni Infatti, prima parlando in generale e poi confrontandosi solo con Mowgli, la giovane cantante ha detto la sua opinione Secondo lei molti ragazzi sono stati falsi in puntata perché in sala Relax dicevano di non volere Mowgli al serale, mentre interrogati da Maria De Filippi e davanti al pubblico hanno detto l'opposto Non solo, Tish ha anche detto.Anzi, tanti hanno tre tipi di atteggiamento, uno nel Residence, un altro qui in sala Relax, e poi un altro ancora in studio con il pubblico, i professori e Maria Amici di Maria De Filippi, furiosa lite tra Tish e Giordana.All'inizio del programma Tish e Giordana, le prime due ad ottenere il banco, andavano molto d'accordo e si volevano molto bene L'hanno detto e dimostrato in più occasioni. Qualche settimana fa, tuttavia, tra loro è successo qualcosa Le due ragazze non si parlano più. In occasione di quello che ha detto Tish, però, Giordana ha voluto saperne di più Posso sapere a chi ti riferisci con questo discorso o, scusa. Tish ha avuto una reazione molto forte Tu non mi devi più parlare, non mi devi più rivolgere la parola. Sono stata chiara. O te lo devo dire in tutte le lingue di questo mondo Ne è scaturito uno scontro molto acceso tra le due cantanti che non ha portato a nulla Tish ha smesso di ascoltare Giordana che, di conseguenza, non ha ricevuto risposta alla sua domanda Amici di Maria De Filippi, le ultime novità sul serale.Per il momento gli allievi che accederanno alla fase serale del programma sono, Raffael, Vincenzo, Valentina, Umberto e Mogli per il ballo, Tish, Giordana, Alberto e Mameli per il canto Non si conosce ancora il numero esatto degli allievi, ma Maria De Filippi ha confermato che il serale inizierà sabato 30 marzo e che ci saranno due squadre con due direttori artistici Il primo giudice ufficiale è Loredana Bertè Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like